Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Emanuele e bentornati qui come sempre sul mio canale. Oggi voglio portarvi una nuova collaborazione, anzi la prima collaborazione sul mio canale YouTube. Il canale con cui collaboro è quello di Rodi Andrea, che è un ragazzo molto molto capace, molto bravo, che parla di applicazioni di Android sul suo canale, che mi invito a seguire, a andare a visitare tramite il link che trovate qui sotto in descrizione. È il suo canale dove pubblica giornalmente video su applicazioni per Android di qualsiasi genere e per qualsiasi gusti e le utilità. Quindi vi consiglio di farci un salto e se vi piace di iscrivervi. In questo video vogliamo esporvi insieme quelle che sono le 10 applicazioni preferite da entrambi. Sarà un video diviso in due parti, quindi la prima parte che è questa che vedete oggi sul mio canale e la seconda parte sul suo canale. Oggi vi mostrerò le prime 5 applicazioni. La prima di cui vi parlo si chiama Bitly ed è un'applicazione che mi consente di andare a vedere delle statistiche molto molto importanti per il mio canale YouTube. Ad esempio, quando faccio dei link che riportano a dei video, posso capire tramite Bitly quante persone hanno cliccato su quel link. Effettivamente la funzione principale è quella di andare a accorciare i link per evitare di farli troppo lunghi. La seconda applicazione invece si chiama Backdrops. Backdrops, a mio parere, è la migliore applicazione in assoluto presente sul Play Store per andare a scaricare wallpaper per il vostro smartphone Android. Ci sono tantissimi sfondi di qualsiasi genere per tutti i gusti. Questa nella sezione Explorer, che è una sorta di sezione random, quelli più votati, quelli più scaricati, quelli preferiti tra gli utenti. Poi abbiamo quelle della Community, che sono stati condivisi recentemente dagli utenti, che sono iscritti all'applicazione, perché avete infatti la possibilità di andare a registrarvi, a creare un account e andare a caricare degli sfondi che potete condividere con gli altri iscritti all'app. Invece qui abbiamo le collezioni, dove troviamo diversi sfondi per lo stile, il genere, per esempio terra. Abbiamo tutti gli sfondi di terra, della natura, eccetera, eccetera, che a me piace tantissimo. E poi anche Abstract, eccetera, eccetera. E qui abbiamo i nostri favoriti. Insomma, vi consiglio di scaricarla. Trovate tutti i link delle app che vi sto illustrando qui sotto in descrizione. Poi la terza applicazione si chiama AirDroid. AirDroid è un'app che è davvero utilissima e indispensabile. Da quando l'ho scaricata non ne posso più fare a meno. È un'app che vi permette di andare a condividere con il vostro computer dei file, qualsiasi tipo di file, video, immagini e quant'altro, che avete inserito sul vostro smartphone. È molto semplice, però funziona essenzialmente con l'app in contemporanea presente sul PC. Oppure potete semplicemente andare a incollare questo codice, il vostro indirizzo HTTP 192, eccetera, eccetera, per andare ad accedere al vostro dispositivo, in questo caso al mio Honor 8. È molto utile, molto funzionale, perché vi consente anche di passare file tra amici. Quindi il vostro amico che è installato AirDroid potete passarvi le foto, i video e quant'altro. Poi abbiamo la possibilità anche di fare altre cose, come per esempio guardare i nostri file presenti sul dispositivo, quindi una sorta di file manager integrato. Abbiamo anche la possibilità di fare un backup delle nostre foto, delle nostre immagini, dei nostri video e di registrare lo schermo del dispositivo. L'applicazione migliore per vedere il medio sul vostro smartphone Android, a mio parere, è questa, che si chiama Waiter, semplicemente, ed è un'app che è davvero completissima, al 100%. Intanto è molto molto precisa, è stata rinnovata graficamente di recente, abbiamo qui la possibilità di inserire le nostre località e poi possiamo decidere di vedere il radar e possiamo anche andare avanti con il radar sia di 5 o di 15 minuti e vi segnala tutta la perturbazione che c'è nella vostra zona. Potete farlo sia per oggi e sia anche per domani, se ci sono nuove in arrivo o se comunque il tempo è ancora buono. Poi possiamo anche andare a vedere direttamente le temperature, sia per fascia oraria e sia per giorno. Vi dice, diciamo, un excursus settimanale fino alla settimana successiva ed è davvero ben fatta, davvero completissima, nessun tipo di problema. Potete anche andare a scattare una foto e diventare dei reporter per l'app e passare all'applicazione premium che vi permette di sbloccare semplicemente la pubblicità che è presente, come vedete, all'interno dell'app. Insomma, super consigliata perché è anche molto molto precisa, non sbaglia praticamente mai. In ultimo voglio mostrarvi questa applicazione che si chiama Score, che altro non è che è un gioco, un gioco a mio parere molto molto carino, che arriviamo a mutare un pochino. è un gioco che si basa sulla possibilità di fare delle azioni tramite il vostro video, cioè dovete costituire delle azioni da gioco, come vedete, delle azioni che vi permettono di andare ad arrivare alla rete, cioè di segnare e di fare il gol. E devo dire che è davvero molto divertente e dovete essere anche abbastanza bravi perché non è facile fare il gol, perché il portiere è anche bravo soprattutto nei livelli successivi perché io sono a livello 108 e soprattutto le azioni sono sempre più difficili da disegnare perché è questo quello che dovete fare, disegnare il traiettore del pallone. Devo dire che non c'è un sistema così forte di pay to win, avete la possibilità di riscattare dei soldi che potete sia acquistare, come vedete, sia, diciamo, collezionare guardando di video, per poi poter spendere quando non vi bastano più le vite, cioè quando questo cuore arriva allo zero, oppure quando avete bisogno di dei power up e cose del genere. Il gioco è diviso a stagioni, sono la stagione 6. Bene ragazzi, queste sono le mie 5 applicazioni preferite su Android in questo momento. Adesso passo la palla allo stesso Andrea che vi dirà quali sono le sue 5 applicazioni. Ciao a tutti, io sono Rodi e prima di fargli sapere quali sono le mie 5 applicazioni preferite, volevo ringraziare Emanuele per avermi aspettato sul suo canale. Ma iniziamo subito. La prima delle 5 è Xposed Installer ed è praticamente la base per poter usare Xposed. Ci permette di installare il framework, di aggiornarlo, gestirlo e disinstallarlo e di installare i vari moduli e le varie mod che Xposed porta con sé. è un'applicazione che ritengo fondamentale su qualunque smartphone dotato di root. Al secondo posto troviamo Viper for Android che è un'applicazione che permette di modificare l'audio sia dello speaker, del telefono, delle cuffiette, di un eventuale device Bluetooth, quale auricolare Bluetooth, casse, eccetera, e di un eventuale dock nel caso l'abbiate. Le modifiche che potete fare sono tantissime. Si parla di alti, bassi, equalizzatori, surround, riverbero. C'è persino un'opzione per proteggere il nostro sistema uditivo ed evitare eventuali danni da troppe modifiche. E devo dire che è la più completa in assoluto e purtroppo si trova solo su XIDA, ma non credo sia un problema. Al terzo posto troviamo SmartDrawer. È un'applicazione che ci permette di ordinare tutte le applicazioni installate sul nostro dispositivo in categorie tramite l'utilizzo di internet. Le categorie sono comunicazione, internet, giochi, multimedia, accessori e impostazioni. Tra tutte le applicazioni che ho che sono più di 400, non ne ho ancora trovata una che sia effettivamente fuori posto e quindi devo dire che hanno fatto veramente un ottimo lavoro. Inoltre possiamo attivare all'interno di questo drawer un icon pack uguale o diverso a quello che utilizziamo già nel nostro launcher principale. Nella quarta posizione troviamo KingStream. È un'applicazione che ci permette di automatizzare in che modo teniamo acceso lo schermo del telefono in base a vari parametri. Possiamo settarlo in modo che rimanga acceso se il telefono è in movimento e come potete vedere dalla piccola barra qua in alto se io muovo un pochino il telefono si illuminerà la scritta in movimento. Dal sensore di prossimità che se io copro fa vedere che diventa rosso e quindi vuol dire che capisce che dovrò spegnere lo schermo. Dall'inclinazione del telefono rispetto al piano quindi se supero una certa inclinazione o se sono sotto una certa inclinazione lo schermo si comporterà in modi diversi e tramite notifica che possiamo cliccare per mantenere lo schermo acceso finché non la ricliccheremo. Le impostazioni a nostra disposizione sono tante e personalizzabili per quanto riguarda tempi, inclinazioni e comportamenti vari ed è un'applicazione credo fondamentale. L'ultima applicazione di cui vi voglio parlare è Screener. Screener cosa ci permette di fare? Ci permette di trovare le cornici di vari dispositivi e persino dei watch quindi i watch o Samsung Gear 2 eccetera sia diciamo in formato flat sia in 3D quindi girati leggermente in diagonale e diciamo troviamo anche delle versioni minimali quali tutti i neri oppure possiamo andarne a scaricare altri nel caso vogliamo trovando anche magari soltanto la foto in 3D senza proprio avere una cornice. È un'applicazione fondamentale almeno per quanto riguarda me sia per rendere migliori i miei screen sia per effettuare e creare poi le copertine dei miei video YouTube. Queste erano le 5 applicazioni che preferisco ringrazio ancora una volta Emanuele per avermi ospitato sul suo canale e ciao a tutti! Bene ragazzi queste erano le nostre 5 top app su Android vedete la seconda parte di questo video sul canale di Andrea quindi restate sintonizzate anche sul suo canale vi lascio il link in descrizione questo video finisce qui io vi saluto ci sentiamo alla prossima ciao!